a tutti i ragazzi il mondo l'animo questo è un video sono ansi come detto dobbiamo fare il primo video eccolo qui si va al gioco dobbiamo mettere queste palline sono andato due giorni fa sono andato 13 mi conoscivo anche già abbastanza perchè è un mio amico dell'abruzzo è arrivato al livello 100 un giorno questo gioco ho portato tutti i oggi è venerdì e mercoledì quindi seguitelo a casa ne ho almeno due e qui ti intrippa il cervello perchè dopo più ne metti più ti gira la testa e quindi non è facile quindi raga non è facile poi ci sto scaricando una bella applicazione raga video il quale abbastanza passato mattina ma non saprete quando uscirà vedrò nello stesso episodio che uscirà appena l'applicazione alla fine di subscribe ci riprova alcune volte se ne scorgara finire di mamma siamo a 1 minuto e 52 di tempo un po' dai ragazzi iscrivetevi lasciate un commento un like mi raccomando voglio che iscrivetevi se avessi dato pure il programma ah ah a parte che non ho capito neanche cosa sta succedendo a parte che non ho capito neanche cosa sta succedendo ah ah carica è impossibile ce la faccio ce le pro il primo 2 e basta guardate le rompere sarebbe strano non ti erro no come l'hai preso quello non ci credo ok raga la prossima parte vediamo domenica con il prossimo video bella ragazzi